Con la vittoria di Roberto Mutalipassi al primo turno si è proceduto anche alla tempestiva assegnazione dei seggi con la maggioranza che conquista 11 consiglieri. Uno va a Raffaele Pesce e tre a Massimo Laporta e uno a Elvira Serra per le opposizioni. In queste ore si stanno verificando i numeri definitivi perché sono in ballo solo tre voti per assegnare il consigliere come terzo di Laporta o secondo di Pesce. Ecco l'assegnazione tra i più votati delle rispettive liste. Al momento la maggioranza è composta da quattro del PD, Marciano, Lampasuna, D'Arienzo e Di Filippo. Due della lista Mutalipassi Sindaco, Comite e Bagnala. Due della lista Ci siamo per Agropoli con Sant'Angelo e Pizza, uno del PSI di Biasi, uno della lista insieme Comutalipassi, Gennaro Russo, uno per la lista Uniti Comutalipassi, Mario Pesca. Per la minoranza il candidato sindaco Raffaele Pesce per il Movimento Liberi e Forti, la candidata di Città Futura, Elvira Serra. Per la coalizione di Massimo Laporta il candidato sindaco e per la lista Agropoli Oltre, Bufano e la lista Laporta sindaco Santo Suosso. Grazie a tutti.